Abbiamo detto più volte che sabato la Serie B non scenderà in campo, dunque Regina e Cosenza proseguiranno con gli allenamenti e con la speranza di recuperare chi è fuori forma ancora. Chi sta meglio tra le due però è sicuramente la Regina che prima in classifica ha una squadra molto forte e come ha detto il giocatore Gagliolo nel post cittadella, la squadra sa cosa deve fare quando entra in campo. Il mister è il maniaco del lavoro, ci alleniamo tantissimo sui calci piazzati, sulle palinative, sugli sviluppi quindi sappiamo quello che dobbiamo fare quando entriamo in campo. Sicuramente stiamo subendo poco, quello è vero ma è merito di tutta la squadra perché il primo difensore è Jeremy che va a prendere il play, le mezzali che escono forte sui loro centrali e quello sicuramente ci aiuta. Anche Hernani ha espresso grande serietà, ragazzo umile, felice di trovarsi a Reggio e con mister Inzaghi. Darà tutto per i colori a Maranto. Sono veramente felice di arrivare qui a Regina. Dopo tanti mesi senza giocare una partita ho già avuto un po' di minuto. Ho cercato di fare quello che ha chiesto il mister, di aiutare i compagni in quel momento lì. Mi sono sentito abbracciato di tutte le stadioni, di tifoseria e questo viene anche diciamo più energia per aiutare, per correre e cercherò sempre di dare il meglio possibile per portare la Regina nel posto più alto. Il meglio di me io cerco sempre di fare la mezzala, ma ho fatto tante partite come registra, ma io sono mezzala, mi piace arrivare davanti, mi piace fare passaggio, l'ultimo passaggio, mi piace tirare in porta. E facendo quello ruolo mezzala, quello che chiede il mister, è più facile. Stiamo vedendo Fabian che sta facendo tanti gol, sta facendo benissimo come tutti gli altri che fanno il centrocampista. Si tornerà in campo il 30 settembre con l'anticipo di Cosenza Como al San Vito Marulla e poi l'1 ottobre il resto della Serie B. Noi ovviamente avremo un occhio particolare su Modena Regina. Potenza Crotone sabato sera alle 20.30 come Catanzaro Messina. Il Crotone cercherà il quinto centro consecutivo. Mister Lerda ha chiesto concentrazione e determinazione ai suoi. Potenza è un campo ostico. Le insidie che ci sono durante una gara, quindi ogni gara è diversa dalle altre, l'abbiamo preparata, abbiamo avuto modo e tempo di prepararla. Lo abbiamo fatto bene, come solito ci arriviamo bene. Però le insidie di una partita sono diverse dalle altre. Chiaramente noi dobbiamo cercare di approcciare bene perché approcciare bene vuol dire iniziare in un certo modo e avere un'autostima, un'autofiducia che ti permette comunque di fare le cose fatte bene. Poi però ogni gara è diversa dalle altre, giochiamo contro una squadra che sta facendo bene, ha fatto quattro pari, però ha sbagliato anche tre penalty. Forse uno non era decisivo, quello del Monterosi che comunque subito dopo loro hanno pareggiato la gara. Però gli altri due sono penalty che hanno inciso anche dal punto di vista dei punti. Quindi incontrere una squadra che ha dei valori, una squadra che ha giocatori importanti di esperienza. E quindi tutto questo noi lo sappiamo. Poi le insidie della gara sono molteplici e dobbiamo cercare di tenere presente tutti questi fattori. Dobbiamo cercare di portare la gara sui binari che più sappiamo fare, pur sempre tenendo in considerazione l'avversario e rispettando sempre e solo tutti. Perché questo è sempre molto importante. I vantaggi sarebbe meglio forse in panchina, però l'ho detto l'altra volta. Da fuori ho la possibilità di vedere molto meglio, eccetera, eccetera. Quindi mi tocca star fuori e starò fuori. Non volevo più tornarci, però purtroppo con queste regole qui, io purtroppo uso anche un linguaggio, a volte un intercalare che succede, che possa dire qualcosa che non devo dire. Mi dispiace perché comunque vorrei sempre poter star vicino ai ragazzi, che comunque siamo un gruppo coeso, un gruppo forte, un gruppo unito. Purtroppo ci salteranno i miei collaboratori, io li guarderò dall'alto. Dopo il passo falso di Cerignola bisogna recuperare subito il terreno. Ne parliamo con Ghion. Mi sto trovando molto bene, i ragazzi mi hanno accolto benissimo fin dai primi allenamenti, mi stanno dando una grande mano. Ho capito subito che sono arrivato in un gruppo molto unito e questo può fare la differenza in un campionato difficile come questo e ci può aiutare a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sì, la concorrenza è alta, tutti i centrocampisti sono di alto livello per la categoria, questo ti spinge a dare il massimo sempre in allenamento ed è un fattore molto importante, così ognuno non si sente certo del posto da titolare. Io sono a completa disposizione del mister, se il mister domani mi dice di giocare trequartista io lo faccio senza problemi anche perché a me piace oltre che a costruire anche a propormi in fase offensiva e mi piace fare assist e magari anche qualche gol fa sempre comodo e quindi questo non è un problema. Ripeto, la concorrenza c'è, il livello della squadra è molto alto, però questo non deve essere un problema, anzi è un fattore molto importante per il gruppo. Il pubblico è molto caloroso, è un pubblico esigente, però ci dà sempre una grande mano in casa, ma anche fuori casa, sono venuti numerosi a Taranto, a Cerignola e mi hanno accolto benissimo anche loro. Mentre con Catanzaro Città io sono andato solo una volta a visitare il centro, poi ho preso casa a Soverato dove sto molto bene.